Di nuovo insieme ben trovati, la seconda parte della nostra terra, ancora in compagnia di Vittorio Silvestrini che è il presidente della Confagricoltura Lucca, abbiamo parlato, stiamo parlando in particolare di Versilia, ma dei problemi, delle potenzialità del territorio della provincia di Lucca. E allora per ricominciare la discussione vediamo insieme Silvestrini ancora un'intervista con l'assessore Diego Santi, in maniera particolare questa parte dedicata ai giovani. Lei che in questi anni ha avuto a che fare con tante aziende che si occupano in tutte le forme di agricoltura, parliamo un po' dei giovani, perché abbiamo assistito negli ultimi anni e un aumento dei ragazzi che si iscrivono proprio alle facoltà di agraria e alla scuola agraria che abbiamo qua a Lucca. Fra l'altro c'è anche un progetto interessante che avete coordinato. Che prospettive ci sono secondo lei per i giovani in questo settore? Ecco, questa è una delle cose di cui sono più orgogliosi e che mi hanno stupito di più da quando sono assessore all'agricoltura. C'è stato veramente un boom delle richieste, dell'interessamento da parte dei giovani, sia per gli studi agricoli e agrari, sia per la costituzione di nuove aziende. Noi abbiamo finanziato con l'ultimo PSR una cinquantina di giovani agricoltori che hanno deciso di fare dell'agricoltura il loro motivo di vita. Chiedo che il nostro compito come istituzione sia quello di aiutarli e di portarli sulla strada corretta, di far rifare quel salto di qualità importante, far rifare il salto dall'azienda, piccola azienda di provincia all'azienda moderna che è necessaria per affrontare poi ovviamente il mercato moderno. Quindi noi crediamo che con le potenzialità del nostro territorio, con i nostri giovani, con le nostre scuole, hai citato prima Bus Draghi sicuramente che è una scuola importante, infatti ha visto uno sviluppo importante anche delle iscrizioni, di poter con queste prerogative e queste basi poter creare delle aziende o ammodernare le aziende esistenti grazie a questi giovani, in modo che siano perfettamente all'altezza dei tempi, all'altezza delle sfide dei nuovi tempi. Da lì si parte, dai giovani, quindi da questo progetto con Bus Draghi per creare nei giovani agricoltori anche una mentalità imprenditrice con l'utilizzo dei nuovi software, dei nuovi metodi di gestione aziendale, ma poi anche con altri progetti che consentano anche di utilizzare tutte quelle che sono le tecnologie nuove, la biotecnologia, l'analisi del DNA, in modo da creare veramente aziende al passo con i tempi. Dunque per fare gli imprenditori agricoli oggi Silvestrini bisogna essere preparati, così dice l'assessore Santi, così vediamo con queste scuole, c'è bisogno anche di terreni, perché i terreni in provincia di Lucca, in Toscana, costano tanto, lei crede nel progetto della Banca della Terra, questo progetto che la regione toscana sta portando avanti, ne abbiamo parlato direttamente con gli organi istituzionali, quindi terreni abbandonati, incolti, che potranno essere destinati anche ai giovani con affitti tutto sommato bassi? Io credo nel progetto della Banca della Terra, però ha una condizione, che la Banca della Terra dia praticamente, dia la terra però dia, diciamo in un certo qual modo, dia del terreno su cui è possibile fare attività agricola imprenditoriale, mi spiego meglio, cioè non dare dei piccoli appezzamenti di terreno qua e là, ma individuare praticamente delle aziende agricole che praticamente non hanno più interesse oppure stanno cambiando e praticamente dare questi terreni qua, perché ci possono essere, diciamolo questo, ci possono essere dei terreni che sono in zone disagiate, questi terreni in zone disagiate, certamente nemmeno il giovane ci va, perché praticamente ha sempre dei costi che non gli permettono di lavorarli, quindi ecco non vorrei che poi fosse un solito giochetto per dire diamo la terra, poi mi danno la terra praticamente in collina dove non è possibile andarci con i mezzi, non è possibile lavorarci e quindi questo non può essere accettato. Vogliamo farvi vedere un esempio di una giovane, di una ragazza a Monti di Ripa, Francesca Orlandi, che ha raccolto, possiamo definirla così, una eredità di famiglia e sta portando davanti un progetto importante. Vediamo questa intervista ancora realizzata da Guido Casotti. Siamo in compagnia di Francesca Orlandi, ci troviamo qui a Monti di Ripa nella sua azienda agricola che produce vino ed olio. Alla Francesca, giovane imprenditrice, come altri ne abbiamo trovati nel corso di questi nostri appuntamenti, possiamo dire che al di là della produzione di olio e di vino c'è un'altra finalità nella vostra attività, la tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio. Certo, sicuramente, anche perché il terreno è di famiglia, la vigna è vigna fin dall'Ottocento, quindi è sicuramente nel nostro interesse di mantenerla sempre pulita e in modo da preservare anche il paesaggio e valorizzarlo sicuramente. Ecco, c'è un aspetto da sottolineare. Lei ha cominciato ereditando questa azienda dalla famiglia, in pratica. Sì, sì, la vigna era appunto di famiglia, ci lavorava il mio nonno e alla morte del mio nonno è stata mandata avanti da mio padre, che però di lavoro fa il medico, quindi l'ha mandata avanti nelle ore libere dal suo lavoro. Poi io una volta laureata, che però sono laureata in lettere, quindi ho cambiato completamente percorso, mi appassionata, soprattutto proprio perché è una cosa nostra di famiglia e ho deciso di mandare avanti l'attività. Da una possibile cattedra a un vigneto. Senta, però per chi deve partire da zero, questo credo sia un messaggio importante, quanto è difficile? È molto difficile, secondo me, perché se non hai perlomeno il terreno a disposizione di famiglia e anche una famiglia alle spalle che ti possa aiutare, partire da zero secondo me è molto difficile, perché anche se ci sono i finanziamenti, poi nella realtà non è così semplice nella pratica, ecco, partire da zero. Lei suggerirebbe a un giovane, consiglierebbe comunque di avviare questa attività, visto che lei comunque in qualche modo ci è riuscita? No, sicuramente è molto bella come attività, ecco, è gratificante anche quando soprattutto partire da zero, far crescere insomma un prodotto tuo, quello sicuramente è gratificante. È difficile, però secondo me le soddisfazioni poi sono tante, soprattutto nel rapporto con il consumatore finale, nel far capire la passione che c'è dietro, io credo che ora come ora sia forse una delle poche alternative rimaste per poter fare qualcosa, insomma, rispetto a altri settori che sono in crisi, crisi nera, l'agricoltura secondo me è l'unica cosa forse ora che può, che può fare qualcosa, perché si produce realmente qualcosa, non è come nel terziario, in altri settori dove tante volte si vende l'aria, no? Qui si vende qualcosa di reale e soprattutto poi noi anche col discorso dell'agricoltura biologica crediamo in un prodotto di qualità, ecco, perché il mangiare si mangia tutti i giorni, più volte al giorno e quindi sicuramente saper scegliere un prodotto di qualità e prodotto in Italia è importante. Che bella storia quella di Francesca, ne abbiamo raccontate tante in queste cinque puntate, Silvestrini, questa è bella, è un'altra bella storia, anche lei che non la conosceva annuiva mentre commentavamo insieme. È vero, questa è una bella storia, gli fa onore a questa giovane, gli fa onore perché ha mandato avanti, prima di tutto ha mandato avanti un'azienda di famiglia e quindi ha fatto una continuità, in più ho visto attraverso l'immagine, ho visto che sta facendo dell'innovazione, dell'innovazione che pur essendo un'azienda mi sembra di medie dimensioni, ora non so qual è l'estensione, comunque sta facendo penso un buon lavoro. Lei ha, l'angeli, scusi, questa Francesca ha messo il risalto, praticamente dice noi si dà un prodotto di qualità e si dà praticamente un prodotto diciamo italiano, è questa la sfida che noi attualmente ci troviamo a combattere, prodotti di qualità e praticamente un prodotto italiano. E qui apro una parentesi, la comunità economica europea su questo settore è latitante e ci, diciamo chiaramente, ci danneggia. Una cosa sola, poi dobbiamo vedere un altro contributo, però quelle parole di Francesca mi hanno colpito. Quando diceva, secondo me rispetto ad altri settori l'agricoltura può ancora dare tanto perché si mangia tutti i giorni e perché si produce qualcosa di vero, lei che comunque l'ha detto del settore. È vero, è vero, l'agricoltura ci dà tutti i giorni un qualcosa, tutti i giorni, perché se no noi non si sarebbe qui, no? Certo. Siamo qui per l'agricoltura perché riusciamo a mangiare, riusciamo, quindi è un settore che diciamo è un settore primario, è un settore primario che ora in questi ultimi due o tre anni di crisi si sta riscoprendo, ma negli anni passati non era considerato. Cerchiamo anche noi con questa trasmissione di dare il nostro piccolo contributo e di considerarlo un pochino di più, anche per il suo ruolo di tutela. Ne ha parlato Francesca prima nell'intervista, di tutela perché il nostro territorio, quello della Versilia, come tutto quello della provincia di Lucca, ha bisogno di essere curato. Allora vediamo questa intervista con il professor Luca Sebastiani dell'Università della Normale di Pisa perché ci parla proprio della tutela della Versilia. Vediamo. Siamo in compagnia del professor Luca Sebastiani della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, alle nostre spalle il Palazzo Medicio, patrimonio mondiale dell'UNESCO e ci troviamo a Seravezza. Professore cominciamo a parlare del paesaggio versiliese, di quelle che sono le sue caratteristiche. Il paesaggio versiliese è un paesaggio molto particolare, unico nel suo genere perché racchiude in uno spazio abbastanza limitato tutta una serie di eccellenze dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista naturalistico. Io spero si possa riuscire a parlare delle aree presenti qui nella zona della Versilia, ci sono le aree per esempio del lago di Porta che è un sito di interesse comunitario, ricco di specie sia vegetali che animali di interesse per la comunità europea, per la loro conservazione e quindi anche per la nostra popolazione. Ci sono delle aree più avanti nella zona di Forti dei Marmi dove sono presenti delle aree dunali, ci sono delle specie tipiche delle dune molto interessanti e direi che questo è il luogo di partenza ideale perché qui abbiamo la nascita, questa zona un po' più avanti, la confluenza del fiume Vezza che è questo che accanto con il Serra nasce proprio il fiume Versilia, il nome del fiume Versilia e quindi è il fiume che dà un po' il nome a queste terre, a queste zone. Proprio abbiamo scoperto che il nome Serra Vezza, non lo sapevamo, deriva proprio da questi due affluenti della Versilia storica. Parlava di aree protette, ci sono dei rischi oggi per queste aree, quali sono eventualmente, cosa si può fare? I rischi che ci sono chiaramente derivano da questo fatto di essere circondate da insediamenti abitativi e pertanto la loro gestione va equilibrata con le necessità giuste dell'economia locale. Ci sono rischi ad esempio anche di introduzione di specie aliene, cioè specie sia vegetali che animali che non sono originari di queste aree e che possono, se trovano gli ambienti particolarmente adatti, colonizzare rapidamente e degradare quegli ecosistemi naturali che adesso sono presenti nelle aree sottoposte a tutela. Col professor Sebastiani vogliamo parlare anche delle varietà di olivo presenti qui in questa zona di Serra Vezza, di Monte di Ripa. Allora, qui in questa zona sono presenti le classiche varietà toscane, quindi Frantoio, Lecino, il Moraiolo e poi nella zona della Piana abbiamo anche l'olivo quercetano che è stato riconosciuto anche da recente ricerche della regione e da parte di colleghi dell'Università di Pisa e altre università che è un'entità, una varietà tipica della zona, diversa dalle altre varietà toscane, quindi è una varietà che matura più tardi rispetto alle altre varietà come Frantoio e ha anche una caratteristica particolare, le olive resistono meglio agli attacchi della mosca delle olive e quindi sono rispetto alle altre varietà più sane al momento della raccolta. Le caratteristiche dell'olio sono comparabili rispetto alle altre varietà toscane che sono comunque danno degli oli eccellenti. Una peculiarità di questa zona esiste anche un'associazione dedicata appunto alla tutela e al mantenimento dell'olivo quercetano, parlando prima di aspetti anche legati per esempio al paesaggio, questi olivi negli anni sono stati in parte anche spiantati per fare spazio per esempio a nuove edificazioni o ad altri tipi di soluzioni urbanistiche e quindi si rischia, se si persegue questa strada, di perdere anche questa varietà che invece è unica del nostro territorio, quindi va protetta, va un po' tutelata e anche rimessa in coltivazione perché così abbiamo anche un'identità della Versilia legata appunto a questa varietà di olivo. A proposito di paesaggio, qui da queste alture bellissime dove ci dicevano i residenti addirittura in certe giornate si vede la Corsica, però molto più vicino vediamo di quelli che possiamo considerare avere i propri pugni nell'occhio, degli obrobri, cementificazione, per fortuna non diffusa ma che però proprio non c'entrano nulla con il resto del paesaggio. L'aspetto del paesaggio è importante anche perché questa frammentazione del territorio che si crea cambiando diciamo le destinazioni da aree agricole o aree naturali, ma soprattutto l'area agricola è destinazione più urbanistica, crea delle appunto frammentazioni e degli aspetti poi del paesaggio che cambiano, quindi noi rischiamo in questo modo di non avere più quella tipica visione della Versilia come ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, ma avere qualcosa di diverso che poi alla fine ci fa perdere anche la nostra identità di territorio, quindi la frammentazione va controllata e ridotta il più possibile e va mantenuta invece l'identità del territorio. Da qui si vede abbastanza bene che c'è questa tendenza progressiva, ora abbiamo un'immagine di oggi, se avessimo un'immagine nel tempo, quindi se potessimo tornare indietro e rivedere quello che succedeva 50-60 anni fa e ripercorrere in avanti si vedrebbe molto bene quali sono state le trasformazioni che questo territorio ha subito negli anni e quindi invece dal mio punto di vista, che mi preoccupo più di aspetti di tutela del paesaggio naturale, sarebbe bene evitare questo tipo di percorso. Bella questa intervista con il professor Sebastiani, ho fatto un agaffo, ho detto della scuola normale, della scuola invece superiore Sant'Anna di Pisa, ma mi perdonerà, sono tutti colleghi, lo ha detto lui stesso, l'agricoltura anche come forma di tutela del nostro territorio Silvestrini, è così? Sì, è così, noi praticamente cerchiamo, tutti gli agricoltori cercano non solo di produrre ma anche di salvaguardare il territorio e il problema della salvaguardia del territorio si avverte soprattutto nelle aree collinari, però non sono esenti anche le aree di pianura, dove ci sono state adottate delle soluzioni urbanistiche che hanno stravolto il territorio. Questo stravolgimento del territorio si vede poi quando ci sono queste pioggi torrentizie che praticamente allagano, ma perché allagano? Perché praticamente non si è fatto un uso del territorio come si doveva fare uso. Quindi noi sempre come confagricoltura vogliamo vogliamo che quando si prendano delle soluzioni urbanistiche dobbiamo andare verso il riuso degli edifici, al limite buttiamoli giù e ricostruiamoli, più moderni, più efficienti come si vuole noi, ma noi cerchiamo più di adoperare il territorio, il territorio è una risorsa limitata nel tempo. Io ringrazio Vittorio Silvestrini, la Presidente di Confagricoltura Lucca perché con lui abbiamo potuto parlare veramente di tutto, dallo sviluppo, quindi dal piano di sviluppo rurale fino alla tutela del territorio. Grazie per essere stato con noi in questa puntata della Nostra Terra. Rimanete con noi, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria perché poi nella terza e quarta parte parleremo di imprenditoria al femminile. Ci vediamo fra poco. Grazie. Grazie.